Adesso aveva trovato nell'avversatile Tiziana e in Luciano, abile nei lavori manuali, l'aiuto di cui aveva bisogno per la buona riuscita del suo progetto, una sensazione piacevole che lo riempiva di fiducia. Valentino fischiettò un paio di note di Nel blu dipinto di blu e improvvisamente aveva voglia di imitare i temerari in campo Santo Stefano. Si sedette a un tavolino al sole davanti a un piccolo bar e ordinò un caffè. Il giorno precedente era stato in giro dalla mattina alla sera. Aveva trovato la chiave appesa ad un chiodo accanto al magazzino all'arsenale. Si era inoltrato nella semi-oscurità che odorava di muffa. Aveva spazzato via con la mano le ragnatele, disteso la stoffa, districato le funi e saggiato la resistenza della cesta, rotte in alcuni punti. Bisognava darsi da fare, ma non era impossibile restituire nuovo splendore alla vecchia mongolfiera. Aveva tirato fuori suo taccuino, appuntato il necessario, calcolato il tempo che gli restava togliendo il lavoro a carrezzunico, tanti giorni e quante ore. Poi aveva fatto un paio di telefonate. Era tornato ai suoi colori, ai suoi pennelli e la sera aveva discusso qualche altro dettaglio con il nonno, scongiurando di non lasciarsi sfuggire niente nel caso avesse visto di nuovo Nelli al bar. Per l'intera giornata Valentino si era sentito e euforico. Era talmente inebriato dalla sua fantastica idea che era volato da un posto all'altro come Hermes con i suoi sandali alati. Non aveva mangiato nulla, non si era concesso una pausa. Quale uomo innamorato ha davvero bisogno di mangiare o fare una pausa? E quando la sera tardi era crollato, esausto sul letto, si era accorto di non aver chiamato la donna intorno alla quale ruotava tutto. Grave errore, imperdonabile. Si era arrabbiato con se stesso. Il giorno dopo, quell'incredibile bacio davanti al settimo cielo avrebbe dovuto chiamare subito Nelli. Sicuramente lei aveva interpretato il suo silenzio come mancanza di interesse. D'altra parte, però, non l'aveva cercato nemmeno lei. All'improvviso Valentino era stato assalito dai dubbi. A ben guardare, quella famosa sera Nelli lo aveva rispedito a casa. D'altra parte, però, poteva non voler di nulla. Quando l'aveva baciata, lei non si era tirata indietro. Anzi, tormentato, Valentino si era rigirato nel letto come i pensieri nella sua testa che non gli davano pace. Le donne sono complicate, si sa. Questa qui, poi, santo cielo. Valentino aveva tirato un profondo sospiro. Aveva battuto la mano sul cuscino per modellarlo. Aveva cambiato posizione per l'ennesima volta, continuando a rimuginare. Cosa accidenti voleva dire Nelli con questo temo che non sia una buona idea? Forse non si riferiva a lui nello specifico come la delusione le aveva fatto credere lì per lì. Forse non era il tipo di ragazza che fa salire un uomo in casa dopo un solo bacio. Con questo pensiero rassicurante e il fermo proposito di chiamarla come prima cosa, la mattina successiva, Valentino si era finalmente addormentato. Quando verso le dieci aveva composto il numero di Nelli, lei aveva risposto subito, come se stesse aspettando la sua telefonata. Poi però aveva parlato a monosillabi. «Volevo sapere come stavi», aveva detto Valentino, e la risposta era stata «Bene, e tu?» Se l'aveva immaginato, il tono di Nelli era caustico quando si era scusato per una bella chiamata prima, spiegando che era stato molto impegnato e lei aveva commentato che se ne era accorta neanche una parola sui baci, che si erano scambiati. Solo quando l'aveva salutata da parte del nonno, lei si era sciolto un po', sottolineando di nuovo che Giacomo Sartori era una persona squisita e il settimo cielo un luogo incantevole. Allora Valentino si era fatto coraggio. «No, tu sei incantevole, Nelli, e io... è stato bello l'altra sera, non ho chiuso occhio per tutta la notte e non riuscivo a smettere di pensare a te», aveva balbettato piano. Era seguito un lungo silenzio. Valentino aveva atteso sulle spine, tormentandosi in indice con lunghe, con l'unghia del pollice per l'agitazione. «Non ho dormito neanche io», aveva detto infine Nelli. Lui aveva ripreso respirare sollevato. «Quando possiamo vederci?» Si erano dati appuntamento dopo pranzo in piazza San Marco, dove si erano incontrati per la prima volta. Due ore più tardi, Nelli gli aveva mandato un SMS che Valentino aveva trovato solo dopo aver salutato Tiziana. «Purtroppo non riesco a venire. Ho un terribile mal di testa e rimango a letto. Sarà per un'altra volta. Nelli». Valentino aveva provato immediatamente a chiamarla, ma lei non aveva risposto. Doveva essere sdraiata, con le imposte chiuse, aspettando che passasse il dolore. Valentino accartocciò la bustina di zucchero vuota in una minuscola pallina e la buttò nella tazzina davanti a lui sul tavolino. Doveva andare. Nella tasca della giacca aveva le aspirine comprate in farmacia. Dopo il lavoro avrebbe preso anche qualcosa da mangiare e sarebbe passato da Nelli. Entrò nel bar per pagare. Mentre aspettava il resto, pensò che forse era meglio avvisarla e le scrisse velocemente un SMS. «Ho appena letto il tuo messaggio. Mi dispiace tanto. Ora cerca di dormire. Stasera viene il medico con le medicine e la cena. Rimettiti, Valentino!» Quando attraversò Campo Santo Stefano, diretto al ponte dell'Accademia per raggiungere i pulcinelli in altalena a Carrezzonico, Valentino lanciò un rapido sguardo ai tavoli del ristorante, dove alcuni turisti affamati di sole e chiusi nei cappotti erano ancora seduti a tavola accanto al fungo a gas. Colse un riflesso con la coda dell'occhio e notò una ragazza castana che si chinava in avanti sorridendo e fissava intensamente negli occhi l'uomo seduto di fronte a lei che le teneva la mano. Valentino sorrise, poi si bloccò come colpito da un fulmine. Solo il suo stupido cuore continuava a martellare e regolare nel petto. Pericolo in vista fu l'unica cosa che riuscì a pensare. Pericolo in vista! Raggiunse in fretta il tavolo e si sedette accanto alla coppia che lo guardò sbalordita. Ma che bella sorpresa! disse con un sorriso velenoso. Disturbo, per caso! Tirò fuori dalla tasca la confezione di aspirine e le sbatté sul tavolo con tanta forza che i piatti tintinnarono. Bal di testa, eh? Valentino, cosa ci fai qui? Nellia vanpò e sciolse in fretta la mano da quella dello sconosciuto. Volevo far visita alla povera malata la provocò ma a quanto pare e ci ha pensato qualcun altro. Lanciò un'occhiata di sfida all'uomo con il naso da pugile e il barbur blu fuori moda che gli puntava addosso gli occhi slavati. Avresti anche potuto dirmelo che il tuo amico che ti complica la vita era venuto a Venezia. Valentino si appoggiò allo schienale e incrociò le braccia sul petto. Aveva sparato la cieca ma evidentemente aveva fatto centro. Nellie la dapaonazza che era sbiancò e sembrò aver perso la lingua. In compenso intervene Mr. Barbour che non doveva aver capito nulla o comunque molto poco. Ma che skill vus tip? Chiese. Si sistemò sul naso gli occhiali troppo grossi e rise con incredula buonarietà. Non era difficile indovinare che considerava il giovane italiano un pazzo furioso. Lì è rispose Nellie con un sorriso di scuse poi si voltò verso Valentino ancora torvo e a braccia incrociate non è come sembra spiegò imbarazzata. Ah no? Allora com'è? Ho incontrato per caso il mio vecchio professore tutto qua rispose e a Valentino non sfuggì che le sue guance arrossirono di nuovo. Doveva avere una tresca con quel tizio più vecchio di almeno 15 anni che con ogni probabilità a casa aveva una moglie e le figlie perciò la incontrava di nascosto all'estero. Ah è il tuo professore ovviamente questo spiega tutto. Mr. Barbour captò la parola professore e a lui convinto. Eh perdonami se insisto ma voglio capire bene proseguì Valentino disegnando in aria una spirale di cerchi con l'indice lo hai incontrato prima o dopo il terribile mal di testa che ti obbligava a stare a letto? Nelly fissò avvilita la tovaglia bianca e il professore invece indicò meravigliato le aspirine e domandò qualcosa a proposito di un mal di testo seguito da qualcos'altro che poteva essere è lui? è lui? Nelly fece ceno di no e si portò le mani alle tempie ora l'emicrania le stava venendo davvero pensò Valentino ma prima che potesse rispondere a lui o al francese una voce stupita gridò Nelly ma sei proprio tu what a surprise non è possibile un gigante con il parco e la barba bionda si fece largo tra i tavoli tenendo in mano la custodia di una chitarra Valentino riconobbe il musicista di strada che poco prima strimpellava nel blu dipinto di blu in campo santo Stefano di bene in meglio il ragazzo si fermò davanti a Nelly sfoderando un sorriso a 32 denti e si tirò indietro i folti ricci biondi cosa ci fai a Venezia sweetheart è davvero incredibile stasera volevo tornare a Parigi e ora tu sei qui Valentina noi concorde surprise surprise e con un altro che non si aspettava di vederla chiaramente era la giornata degli incontri casuali guardò Nelly anche lei piuttosto sorpresa Sean esclamò ma pensa yeah it's a small world il gigante biondo posò la chitarra tutto contento si chinò verso Nelly per abbracciarla e avvicinò una sedia notando le facce allibite dei presenti alzò le mani sorry 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 sono di troppo è meglio è meglio che vada Nelly disse a disagio no no il professore tacco educatamente Valentino capì solo sorry osservò con curiosità il nuovo arrivato che si chiamava Sean e dall'accento doveva essere americano adesso erano al completo anche con tutta la buona volontà non c'era più posto intorno al tavolo se non aspetti nessun altro Nelly potresti fare le presentazioni propose e dato che nonostante tutto l'infingarda la faceva appena le concesse un sorriso di incoraggiamento Nelly lo guardò riconoscente i suoi occhi lo pregarono di capire poi afferrò il bicchiere di vino e lo svuotò in un sorso boh e sorrise sorrise e sordì prese fiato e passò in assegni presenti Valentino Sartori di Venezia che restaura dipinti e mi ha aiutato a ritrovare la borsa Sean O'Malley futuro pilota del Maine che gira l'Europa con la sua chitarra e ho conosciuto a Parigi e poi il professore Daniel Beauchat esperto di virilio della Sorbonne con cui scrivo la tesi di dottorato e che per un attimo le manco la voce da poco si è trasferito a Bologna prima parlo in italiano e quando ripetè tutto in francese il professore a noi un paio di volte mentre il biondo del Maine sgranò gli occhi Nelly this is nuts il professore volante ora capisco ma è fantastico si battè il palmo sulla coscia poi alzò i pollici wow congratulazioni your turtle dove veni so very romantic risi amicando entusiasta mentre Nelly gli lanciava inutili occhiate in tralice te l'avevo detto no? che sarebbe andato tutto bene con il tuo professore ai Shona mutò lì e urtò violentemente il tavolo con il risultato che il bicchiere del professore si rovesciò e il vino gli finì sui pantaloni Valentino non sapeva di preciso a cosa fossero dovute l'improvvisa esuberanza dell'americano le lodi sperticate bruscamente interrotte sul romanticismo di Venezia e le tartarughe colomba per qualche motivo Shona si era lasciato sfuggire qualcosa di troppo e Nelly non aveva apprezzato Valentino raddrizzò di il bicchiere ormai vuoto cosa gli hai preso al tuo amico del meino domandò gli capita spesso non ora si bilò Nelly che aveva di nuovo cambiato colore sembrava prossimo allo svenimento non ora cosa ho combinato scusate scusate si lamentò l'americano con aria contrita e allungò un enorme tovagliolo al professore Daniel Beauchat dimostrò di non essere un uomo che perdeva facilmente la calma si tamponò alla meglio i pantaloni zuppi si sistemò gli occhiali sul naso e posò su Nelly uno sguardo confuso chi sarebbe questo professore volante chiese aria 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 Grazie a tutti.